La messa in sicurezza idraulica della Val Bisagno con la realizzazione del scolmatore del Feregiano e del Bisagno permettono di guardare a questa vallata in prospettiva, di progettare anche il suo futuro con opere da condividere con il territorio ed è proprio su questa condivisione che punta gli incontri organizzati da CISP e Liguria insieme al Comune e ai vari municipi di Medi e Bassa Val Bisagno per progettare un nuovo abito per questa vallata. Val Terseggi, CISP e Liguria, da dove nascono queste iniziative? Queste iniziative nascono da un dialogo che è iniziato con i due municipi della Medi e della Bassa Val Bisagno dove le aziende che noi rappresentiamo hanno in corso dei progetti importanti uno di questi è la nuova sede di IREN qua a Borgo Incrociati altri sono progetti che sono collegati alle attività di AMT e di AMIU che possono in qualche modo, che devono anzi necessariamente dialogare con il territorio e ci auguriamo che questo dibattito, questo colloquio che è iniziato col territorio possa anche svilupparsi con nuovi progetti e con nuove iniziative per questo abbiamo cercato di coinvolgere la Scuola Politecnica e i ragazzi della Scuola Politecnica, come vedremo, hanno sviluppato delle idee delle suggestioni, delle provocazioni anche per certi versi che possono consentire al Comune di Genova di ripensare, diciamo un po' questo abito nuovo per la Val Bisagno 14 progetti realizzati da 60 studenti della Scuola Politecnica rimmaginano la Val Bisagno Roberto Bobbio, lei è docente di questa scuola ha seguito questi ragazzi in questo percorso, cosa hanno prodotto? Hanno prodotto nuove idee, nuove idee con un valore strategico è un po' questo il nostro scopo per pensare un futuro diverso della valle abbiamo chiamato questo lavoro una valle in transizione è una valle che è stata il grande bacino agricolo della città e poi che ha accolto tutti i servizi scomodi quello che non poteva stare in città andava in Val Bisagno e adesso siamo in una fase di grande trasformazione in cui la Val Bisagno può costruirsi un ruolo diverso un ruolo diverso anche in un'ipotesi di una vita diversa all'interno della città metropolitana dove c'è spazio per forse un parco agricolo per pensare in modo diverso il rapporto tra la città e il torrente Si punta molto sul verde in questi progetti? Si, si punta sul verde ma un verde che non è il verde pubblico tradizionale è un verde che deve essere partecipato e gestito anche dai cittadini questo è molto importante ritrovare anche una gestione collettiva o comune condivisa di questi grandi spazi che il soggetto pubblico da solo non potrebbe gestire Massimo Ferrante, presidente del municipio della bassa Val Bisagno finalmente la vallata può guardare al futuro grazie anche alla messa in sicurezza data dalle opere idrauliche che si stanno terminando e siamo in questa bellissima residenza pre-nascimentale ci ricorda come in realtà la Val Bisagno non ha la storia attuale è fatta di grandissime servitù alla città dallo stadio ai vecchi macelli al cimitero era una vallata con caratteristiche fatta di ville fatta di agricoltura e aveva un suo equilibrio nel territorio questo equilibrio è saltato quando a fine ottocento e nel ventennio fascista si è fortemente cementificato combinando tutti i ri cementificazione continuata nel secondo dopoguerra con l'edilizia economica popolare delle colline la terminatura dei ri ha provocato di fatto poi i disastri che sono avvenuti negli ultimi anni dall'alluvione del 1970 a tutte le altre i cambiamenti climatici hanno peggiorato la situazione e questo è diventato una terra di lutti una terra di esondazioni e una terra di disastri anche economici perché ogni volta che c'è un'alluvione non c'è semplicemente un problema legato alle persone che muoiono ma legato anche alle cose alle imprese che falliscono e alle attività che si arrendono ecco, oggi siamo qui a parlare di rigenerazione urbana ci sono due modi di fare rigenerazione urbana un modo sano che è quello di dialogare col territorio recuperare la storia del territorio recuperare, capire il territorio studiarlo, confrontarsi con chi in qualche territorio ci vive e invece le rigenerazioni fatte invece calate dall'alto e quelle invece sono trasformazioni diventano poi mere speculazioni edilizie o commerciali noi dobbiamo evitare che ora che questa ballata dopo che da 20 anni è nel freezer congelata dalle varie lovioni, congelata dai piani di bacino che l'hanno destinata a zona rossa dobbiamo evitare che appunto ora che questa ballata si riapre a possibili rigenerazioni queste rigenerazioni diventino trasformazioni negative ma possono invece tramutarsi rigenerazioni sane bisogna appunto che chi progetta chi pensa di recuperare questa ballata di ristudiarla anche di dargli una ricollocazione anche economico-sociale nella città e nel territorio lo faccia confrontandosi con i cittadini con le comunità con i municipi soprattutto per evitare gli errori che sono stati fatti nei decenni passati se si rifanno gli stessi errori vuol dire che non si è capito nulla purtroppo alcuni esempi non ci stanno rassicurando uno di questi è l'ex mercato di Corsaradigna dove c'è una trasformazione urbanistica sana dal punto di dare finalmente del verde ai cittadini è un impianto sportivo che fortemente noi abbiamo voluto la parte non sana è la mancanza di dialogo con i commercianti del territorio è una trasformazione non è solo urbanistica è anche sociale ed economica quindi noi ci auguriamo che con la giornata di oggi quella che è seguita la volta scorsa possiamo affrontare in maniera seria una nuova urbanistica che sappia creare uno sviluppo sano di questo territorio Roberto Davoglio presidente del municipio media Val Bisagno ecco il vostro territorio riparte sta ripartendo soprattutto dalla riqualificazione dell'acquedotto ma anche dalla valorizzazione e riscoperta di aree verdi sì allora diciamo che l'acquedotto è un punto di riferimento importantissimo per il territorio per due ragioni sostanzialmente perché è una bellissima passeggiata che attraversa tutta la Val Bisagno ed è un monumento culturale da salvaguardare la seconda ragione è sicuramente che tramite l'acquedotto il tessuto associativo già forte della valle si stringe intorno a questo monumento e crea ancora più aggregazione questo è un fenomeno interessantissimo che negli ultimi anni è cresciuto molto e quindi per noi soprattutto su sponda destra l'acquedotto storico è anche un motivo di aggregazione per quanto riguarda invece le aree verdi come sapete la Val Bisagno ha tantissime aree verdi da recuperare ha un territorio estremamente vasto rispetto ad altri municipi meno densamente popolato però ha delle zone da recuperare da riqualificare importanti ecco come municipio so che ne state cercando di valorizzare una in particolare a struppa cosa vorreste crearci? questa è un'area meravigliosa di circa 8.000 metri quadrati proprio accanto all'acquedotto storico e noi vorremmo creare innanzitutto una zona di accoglienza in collaborazione per l'acquedotto storico in collaborazione con l'Università di Genova e l'Istituto Agrario Marsano e allo stesso tempo abbiamo anche ulteriore spazio per poter studiare un progetto che possa dare finalmente alla cittadinanza in quel caso nel quartiere di Struppa un polmone verde da poter utilizzare a piacimento una rigenerazione si diceva anche prima parlando con il docente della scuola politecnica che coinvolge il territorio si deve coinvolgere il territorio però al di là delle aree verdi che vogliamo recuperare che sicuramente stiamo cercando di portare avanti dei progetti di rete col tessuto associativo, le associazioni, le scuole, i singoli cittadini però serve anche una politica lungimirante che tenda ad evitare di andare a costruire ancora in una valle già fragile e quindi a recuperare le esistenze perché il recupero dell'esistente è un mantra si sente spesso dire ma poi alla fine non è neanche facile e le amministrazioni dimostrano a volte di non essere molto attenti su questo tema invece noi abbiamo un sacco di edifici prevalentemente nel nostro territorio privati però dove bisogna lavorare sopra anche come pubblico amministratore e amministrazione incentivare la messa prima la messa di sicurezza e poi la riqualificazione del bene Tra questi non possiamo non citare l'ex cinema nazionale di Molassana che è da lì da tempo che aspetta con i cittadini che chiedono il ritorno di uno spazio culturale rinnovato proprio lì dentro Quello è un obiettivo per noi importantissimo va recuperato e secondo noi quello potrebbe essere veramente un segnale importante per dare poi un polo, per creare, per ampliare il polo culturale di Vallata e devo dire che la Val Bisagno non ha né cinema e né spazi anche per i ragazzi per poter da sfruttare per le varie arti fra cui anche quella del teatro e quindi è sicuramente un obiettivo importante che noi vogliamo raggiungere però voglio anche ricordare tutte quelle aree in fase di trasformazione come ad esempio il Fangodotto che presto quell'area lì verrà riconvertita e lì bisogna essere in grado di poter riconvertirla nel miglior modo possibile